Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo piccolo vlog con lo sfondo del lungomare di Napoli come possiamo vedere mi trovo una casa bellissima, non mia sfortunatamente presente sul lungomare Caracciolo dunque questo breve video per ricordarvi che sarò presente come l'anno scorso al Comic Con quindi alla manifestazione qui di Napoli, in padiglione molto probabilmente mi troverete padiglione dedicato ai videogiochi per chi volesse come l'anno scorso, comunque ci vediamo lì per una chiacchiera, un commento o magari un saluto detto questo come sempre prossimamente ci saranno nuovi contenuti ultimamente non sono molto attivo sul canale perché parliamoci chiaro non ho molto tempo e arriveranno alcune novità interessanti quindi vi saluto e ci vediamo direttamente in fiera